...che determinano comunque e che sono una parte che non subito. Uno, evidentemente forme legislative, questo è stato già definito e molto detto, all'interno dei paesi, diciamo, di diritto, di proprietà, di ordine, di tutta una serie di cose abbastanza evidenti. L'altro tema su cui la discussione è ormai superata è il tema se la democrazia o governi autoritari servano di più